Le pressioni sui prezzi del petrolio si intensificano nella prima sessione di scambi di agosto. Il Brent, l'indice di riferimento del greggio di origine europea, è sceso sotto i 50 dollari al barile, ai minimi da sei mesi. Numerose le cause, secondo gli analisti, dai dati che riconfermano la situazione di sostanziale eccesso di offerta rispetto alla domanda, ai timori per il rallentamento della Cina, una delle principali economie consumatrici. Un netto calo anche ai prezzi della benzina, dopo le cifre sulla spesa dei consumatori negli Stati Uniti, che hanno messo in risalto un calo della domanda di automobili.